ciao da marco di ari di vissan portofino oggi voglio presentarvi le moto in pronta consegna sia per quanto riguarda il nuovo che l'usato incominciamo la nostra carrellata delle moto pronta consegna col nuovo con questa splendida street bob 114 è una moto molto agile con un motore di 1868 centimetri cubi mi walkie altezza sella 68 centimetri in pronta consegna nel colore vivid black passiamo a questa soft e standard 107 cubi kings che corrispondono a 1750 di cilindrata moto molto agile anche lei altezza sella sempre 68 centimetri con delle finiture in alluminio lucidato anche questa in pronta consegna nel colore nero lucido passiamo a questa splendida street glide special nella colorazione vivid black con il trim cromato trim cromato vuol dire motore e scarichi cromati anche questa in pronta consegna road glide special in vivid black col trim cromato anche questa in pronta consegna pan america 1250 la novità dell'anno per quanto riguarda harry davison qui nella versione green impronta consegna presso hd portofino avete intenzione di fare tanti tanti chilometri e viaggiare con la vostra harry davison bene harry davison portofino vi dà l'opportunità con i nostri touring usati queste moto godono tutte della garanzia original è una garanzia studiata da harry davison per le moto più conosciute dal concessionario hanno il chilometraggio certificato 99 controlli tecnici effettuati dai nostri tecnici specializzati e godono appunto di 12 mesi di garanzia che è valida in tutta europa oltre alle touring abbiamo anche diversi softy e dyna nel nostro parco usato tutte sempre con la garanzia original harry davison non perdete di questa chicca dyna low rider anniversary a carburatore del 2003 la particolarità di questa moto è che è unico proprietario con soltanto 1500 chilometri ripeto 1500 chilometri è stata in letargo 17 anni nel garage ovviamente l'abbiamo ripristinata cambiando le gomme facendo il tagliando e cambiando tutte le guarnizioni necessarie diamo un anno di garanzia è un'occasione che potete trovare soltanto da hd portofino qui a sesto levante menzione particolare per questa splendida cv o limited del 2017 moto full optional dalla casa veramente perfetta la offriamo con un anno di garanzia original presso hd portofino bene allora vi aspettiamo da hd portofino sia per il nostro nuovo fronte a consegna che per il nostro usato e se volete provare la pan america prenotatevi allo 0 1 2 5 4 5 6 8 7 8 magari oggi no perché la dovrò io ciao 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 ciao